La Cilentana entro l'estate sarà riaperta, ad annunciarlo il presidente della provincia Giuseppe Canfora, dopo il summit sulla viabilità che si è tenuto a Palazzo Sant'Agostino nei giorni scorsi. «È venuto il momento di agire», aggiunge Canfora, «i tempi stringono e rischiamo di perdere i fondi che la regione ha stanziato, in particolare per le strade del Cilento». La prima grande emergenza, sottolinea, è certamente la strada provinciale 430, che nel tratto compreso tra Agropoli Sud e Prignano-Cilento, presenta due frane che hanno causato la chiusura dell'arteria da mesi. A breve, assicura il presidente, i lavori sul primo tratto saranno conclusi e bisogna partire subito con il secondo tratto, quello del viadutto, in modo da favorire la fruibilità dell'arteria entro l'estate. Canfora sa bene che si tratta di un'impresa disperata, considerando che siamo ormai a metà marzo, ma vuole essere ottimista. Mi auguro di poter risolvere un annuso problema che mette in ginocchio ormai da troppo tempo quell'aria e con l'impegno e la forza di volontà penso che potremo farcela. Di contro, ancora non è stato pubblicato il bando di gara e saranno necessari almeno tre mesi per la ricostruzione del viadotto, con la relativa messa in sicurezza. È vero anche però che i fondi stanziati per il viadotto chiusa da parte della regione, 7,2 milioni di euro, vanno spesi entro il 31 dicembre 2015. I lavori entro quella data devono essere consegnati e collaudati, pena la perdita del finanziamento. Tale operazione sarà resa maggiormente fluida, secondo Canfora, grazie ad un ufficio gare provinciale che è stato rinforzato quanto a risorse umane. Si occuperà degli appalti fino ad 1,5 milioni di euro. Per importi superiori ci sarà la stazione appaltante istituita presso la prefettura. Sarà quest'ultima considerata l'entità del finanziamento, ad occuparsi quindi della gara per la Cilentana che ad oggi, restando chiusa dopo circa tre anni dalla prima frana, costituisce il simbolo dell'Italia che arranca.